Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi mostrerò la posizione dell'anello per lo sblocco del trofeo. Prima di tutto dovete raggiungere questa grande zona esplorabile. Voi praticamente arrivate da là. Una volta che siete arrivati qua, andate alla banca. La trovate qui praticamente, è inconfondibile, la vedete anche da lontano. Quindi entrate nella banca e preparatevi ad eliminare gli infetti presenti. Ve lo dico perché ho provato ad ignorarli, però ignorando gli infetti poi, per qualche strano motivo, che sia un bug o una cosa voluta, non lo so, la cartella a terra con la quale interagire, dove è presente la combinazione per aprire la cassaforte, nel cavo non c'è. Quindi eliminate gli infetti e qui, come per magia, comparirà la cartella con la combinazione. Come vedete, praticamente è buggata, anche se mi segna di interagire con la cartella non c'è. Quindi ricorriamo al file che abbiamo già raccolto, al documento che abbiamo raccolto, Ossia questo. La combinazione è 60-23-06. Quindi aprite la cassaforte con 60... Ricordatevi la combinazione che è scritta sul documento. 60-23-0-6. E, una volta aperta la cassaforte nel cavo della banca a Seattle, l'anello praticamente è in una delle cassette di sicurezza che vi mostrerò adesso. Quindi, entrate nella cassaforte, andate in fondo qui, e interagite con questo cassetto. Al suo interno troverete l'anello. Ora non c'è perché io l'ho già raccolto. Ed è questo. Quindi, una volta che avete raccolto l'anello, sbloccherete il trofeo. 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 Grazie.